Abbiamo già detto da tempo, abbiamo una inversione di tendenza nazionale che però è lungi dal essere una ripresa perché ricordo che abbiamo perso 10 punti di PIL, ne abbiamo recuperato circa uno e quindi siamo sotto rispetto al 2008 di 9 punti di PIL. È evidente che in questa fase le regioni deboli hanno sofferto di più e a maggior ragione occorre riproporre nelle nostre regioni del mezzogiorno quella che noi abbiamo definito la grande questione nazionale che è la questione industriale. Ripartire dall'industria del paese e ripartire da un'attenzione dell'industria del paese al mezzogiorno è la grande sfida che dobbiamo cogliere come paese in un momento delicato in cui tra le altre cose la Francia vorrebbe diventare il secondo paese industriale d'Europa. Noi lo siamo, dobbiamo non solo mantenere la posizione ma recuperare i punti di PIL che abbiamo perso negli anni passati che non sono affatti pochi.